Sono 4 le penalità per Estra nel tempo di 74 e 39 Sous-titrage Société Radio-Canada Andrea Braccio, tango della rock 71 e 73 le 4 penalità Il risultato di Griselda Il risultato di Griselda Il risultato di Griselda Si qualifica anche tango della rock Andre Spegnaloza e Magic Il risultato di Griselda